Mi chiamo Melania e vivo a Roma. Pensavo di essere la moglie e di avere un figlio di sei anni con l'uomo che amavo e invece ero l'amante. E questa è la mia storia. Accominciamo. Sono andata fuori dall'Italia nel 2003 perché sono luogotenente dell'aeronautica. Ero andata lì per una missione e qui c'era questo mio collega, anche lui per lo stesso motivo. Inizialmente non ci sopportavamo, poi abbiamo incominciato a prendere un caffè. Lui mi diceva che era una donna impegnativa, che era una donna difficile. Lui mi aveva detto che era un uomo separato, aveva dei figli. Gli avevo creduto. Incominciamo a frequentarci. Lui si stabilisce a casa mia. La sera dopo le sette chiama a casa sua, sempre con me davanti, per parlare con i suoi figli. E io mi dicevo è anche giusto, vuol dire che è un papà attento. Lui ogni tanto, una volta, due volte, in ogni due mesi, andava a trovare la sua famiglia. E io pensavo fosse giusto perché andava a trovare i figli. Così rimango incinta e abbiamo un figlio. Io avevo già una figlia e un figlio di 31 anni, che due anni fa ho perso per infarto. Sono stata malissima. È solo una mamma, mi può capire. Ho avuto un forte stress. Ma lui non c'era. Comunque, a un certo punto, io gli chiedo spiegazioni del perché lui non prendesse una posizione, del perché lui non volesse ufficializzare il nostro matrimonio. In realtà io e lui gli avevo chiesto la separazione, ma lei ha detto che voleva 100.000 euro per essere lasciata. Alla fine ho scoperto che lui era sposato e che la moglie gli faceva fare quello che voleva, basta che non la lasciasse. La figlia sapeva di me. Mi ricordo una volta eravamo in macchina e lui davanti a me rispose. La figlia gli chiese dove stava. Poi scherzando la figlia gli disse, ah sei con l'amante. L'amante. Io che gli avevo dato una dignità, un uomo che camminava con i calzini bucati, sporco, senza una casa, pagavo io l'affitto di casa mia. Lui era da me. Lo facevo dormire, gli ho dato benessere, l'ho fatto essere uomo. E lui mi dice che quando andrà in pensione prenderà una decisione. Adesso ho preso una casa a Roma, vivo là. lui vorrebbe venire a casa mia. Ma non esiste. Non esiste che io vi faccio sfruttare come ho fatto in Germania, dove ha vissuto a casa mia, dove io pensavo di essere sua moglie. Perché ai suoi colleghi così mi presentava, come sua moglie. Tutti conoscevano me. La moglie non la conoscevano proprio. E io con lui litigavo. Perché gli dicevo, come è possibile che tua moglie in questi anni non ti abbia mai chiesto, tu che cosa fai, dove sei, come faccio io. Perché io non ti mollo un attimo. Perché io ti tratto come se tu fossi mio marito. O ti ho sempre trattato come fossi mio marito. E questo faceva sì che lui mi percuotesse, mi insultasse. Perché ero arrabbiata. Ero arrabbiata di una moglie che aveva mandato in giro un marito a fare danni perché non in grado di gestire suo marito. Ero arrabbiata con quella donna. Ero arrabbiata con lui. La vita mi ha dato tanti dolori. E perdere un figlio è uno dei dolori più grandi che una mamma possa mai avere. E lui non c'era. E adesso lui pretende di vedere mio figlio. Perché quello è mio figlio. Gli faccio da madre e da padre. Anche se è difficile assai. Ma non gli faccio mancare niente. Perché modestamente sono stata sempre una donna che se l'è saputa vedere. Io mi chiedo ma è giusto così? È giusto che una moglie non si interessi del proprio marito gli faccia fare tutto quello che vuole e basta che non la lasci. E io che dal 2003 sono stato peggio di una moglie per lui alla fine dei conti ero solo l'amante. Pensavo di avere tutto sotto controllo. Pensavo che quello che lui mi dicesse fosse vero e invece sono stata ingannata. mi ha rubato la mia dignità ma ora non glielo permetto più. All'epoca ero una donna giovane e sono ancora una donna giovane e piacente. Lui sta con una donna che è molto più grande di lui che sembra la madre. ho tante foto mie e su insieme tante tanti ricordi e a volte mi dispiaccio perché erano tutte falsità. Il mio bene era vero e sono era costruito solo a bugia. non sono una sproveduta non sono neanche una donna fragile ma si vede che avevo un'altra lezione da imparare. Buona vita. Cara amica io non so neanche immaginare la tua rabbia e la tua delusione. Hai ragione. Hai ragione ad essere arrabbiata con lui che ti ha mentito ma soprattutto con questa donna. questa donna che è disposta a tenersi tutto e intanto se sai chi fa la moglie è a posto suo. Ma capi? Bella così. E magari sai che cos'è però cara amica? Che lei magari avrà pure quest'uomo. Eh ma gli manca una cosa importante che tu hai la dignità perché tu ti sei affidata per amore ci hai fatto un figlio l'hai voluto bene te ne sei preso cura. Il karma esiste. Il karma esiste. Sono sicura che prima o poi per te per quello che hai patito arriverà una grande persona e loro due si vede che si meritano perciò sono sposata da tanti anni. Lo so è duro ma non ti ramari cara. Vuol dire che devi avere quest'ultimo regalo che è tuo figlio. ti mando un bacio grande e ti abbraccio forte per il tuo angelo che non c'è più. Buona vita. Grazie. Grazie.